Musica Incontro con il professor Giuseppe Spadafora, coordinatore del corso di laurea in Scienze dell'Educazione. Benvenuto nei nostri studi, professore, anche perché lei ha sempre avuto una grande attenzione verso questo territorio, verso il crotonese e la sua storia ce lo racconta. Allora, lei è tornato qui per la presentazione di questo corso di laurea. Che cosa può rappresentare per il nostro territorio? Dunque, il corso di laurea in Scienze dell'Educazione è un corso di laurea triennale. Noi abbiamo anche la laurea magistrale, cioè due anni oltre la laurea triennale, che è definita in corso di laurea in Scienze Pedagogiche per l'interculturalità e la media education. Ma io mi vorrei soffermare su questo corso triennale di Scienze dell'Educazione, proprio perché ritengo che in questo particolare momento storico, questo corso possa offrire delle opportunità professionali al nostro territorio, al territorio calabrese, al territorio di Crotone, che è una lunga tradizione culturale di interscambio universitario, con l'Università della Calabria. Questo corso di laurea afferisce a un nuovo Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione, un Dipartimento dove si studiano appunto le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia e la Sociologia, ma anche si danno delle competenze linguistiche, sia comunitarie, inglese, francese, tedesco e spagnolo, sia anche di lingua balcanica e lingua araba di base. noi abbiamo questa opportunità. Faccio questo preambolo perché, dicevo, in questo particolare momento storico, questo corso di laurea triennale potrebbe offrire innanzitutto la possibilità di acquisire, con un apposito curriculum che noi ci stiamo predisponendo per organizzare, la figura professionale dell'educatore, si chiama per i servizi educativi per l'infanzia. Diciamo l'educatore d'asilo nido, l'educatore d'asilo nido che dovrebbe essere questa forma di particolare insegnante che osserve e cura la primissima infanzia, del resto molto diffuso in altre parti del Paese, e che però dovrebbe avere una politica di incentivi economici da parte dell'Unione Europea. E la rivalutazione di questo tipo di educatore? L'educatore che dovrà avere una particolare riorganizzazione ed è prevista la laurea obbligatoria all'interno di questo corso di laurea. Ecco, questo è l'aspetto. È previsto dal decreto legislativo del 13 aprile 2017, numero 65, che sviluppa aspetti già previsti in due commi della buona scuola. All'interno di una complessiva riorganizzazione del sistema di formazione dell'insegnante per l'infanzia, diciamo dalla nascita fino ai 5-6 anni. Ecco, questo potrebbe essere un aspetto importante per una nuova professionalità che comunque potrebbe avere nel nostro territorio anche un aspetto positivo proprio perché è un fatto nuovo e quindi ancora non è stato esplorato da precedenti profili professionali determinati da laurea. Allora, volevo farle una domanda. Si eleva il livello culturale di chi professionalmente si inserisce nel mondo della scuola. Oggi parlare di questo corso significa in qualche modo anche permettere poi alle nuove generazioni di avere una cultura diversa, una preparazione diversa, soprattutto di affrontare la vita in modo diverso. Ma è chiaro che noi puntiamo come Unione Europea allo sviluppo del capitale umano che così dalla strategia di Lisbona fino a Europa 2020 costituisce una caratteristica fondamentale. Ora, è ovvio che questo discorso si deve sviluppare sin dalla primissima infanzia e deve avere però una adeguata professionalità che si potrebbe sviluppare meglio all'interno dell'organizzazione universitaria. Del resto, ecco, voglio dire, noi abbiamo nell'Università della Calabria una grande tradizione nelle scienze dell'educazione. Andreatta istituì l'Università della Calabria, io vorrei ricordare, per formare gli insegnanti, gli ingegneri e anche gli educatori e i manager sociali proprio perché riteneva che queste tre figure potessero dare lo sviluppo culturale, quindi sociale, civile e economico alla nostra terra. Quindi il corso di laurea di scienze dell'educazione raccoglie questa eredità. Non è il solo, ovviamente, nell'Ateneo, c'è anche in un altro dipartimento, il corso di laurea di scienze della formazione primaria. Però, ecco, rappresenta un aspetto significativo che può dare questa opportunità. Però, ecco, la caratteristica di questo corso di laurea triennale è che potrebbe dare, inoltre, voglio dire, un'ulteriore professionalità con un curriculum diversificato. Perché è chiaro che noi abbiamo bisogno di questa figura dell'educatore extrascolastico sul territorio che proceda, per esempio, con il caso di Crotone, che lei amabilmente ha detto che io ho un rapporto, diciamo, storico, privilegiato con questa provincia. Ecco, qui c'è bisogno di una figura dell'educatore per l'inglusione interculturale, per gestire il flusso degli immigrati. Questo, direi, che è un'emergenza. Ora, c'è una legge in discussione al nostro Parlamento, la cosiddetta legge Iori, che dovrebbe definire la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico. Però è chiaro che noi non possiamo basarci semplicemente sull'espletamento completo di questo iter, che comunque, pare, ci possa essere nell'immediato futuro. Noi dobbiamo pensare che la figura di educatore, che è la triennale, può anche offrire, è un aspetto fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori. Una laurea in scienze dell'educazione, integrata dalle competenze linguistiche, per esempio in lingua araba, potrebbe senz'altro, magari anche con opportuni tirocini formativi, a cui io sto pensando, sul territorio, proprio nei centri di accoglienza, nei centri, voglio dire, di organizzazione di questa dimensione complessissima, diciamo, dell'integrazione e inclusione, potrebbe dare un contributo decisivo. Lei ha ragione, perché con me sfonda una porta, perché in realtà noi abbiamo tanti bambini che ci sono nella nostra realtà e questi minori, che sono minori stranieri, hanno necessità di inserirsi nella nostra società, ma c'è anche necessità che loro non perdano la loro identità. Di fatti lei ha colto perfettamente il problema. C'è il grande problema dei minori stranieri non accompagnati, che ancora non è stato, diciamo, secondo me, studiato in profondità. Ecco, noi abbiamo bisogno di questa figura dell'educatore, dell'educatore con competenze linguistiche di base, ovviamente, e anche culturali di base, proprio perché riteniamo che questi bambini debbano essere accolti successivamente nelle strutture scolastiche, possano diventare cittadini italiani a tutti gli effetti, solo se si provvede a una forma di inclusione che rispetti la loro identità culturale. E questo è un tema a livello mondiale, ecco, non voglio dire è un tema calabrese, di crotono o italiano, è un tema a livello mondiale che è fondamentale. Quindi io, perlomeno, ma il mio dipartimento, voglio dire, ci tiene moltissimo a sviluppare questa politica, diciamo, di inclusione interculturale. Poi tenga presente, dottoressa, un problema centrale. Noi abbiamo in Calabria il grande problema del recupero educativo, che è un aspetto, devo dire, anche dal punto di vista scientifico, poco esplorato, non del tutto esplorato. Mi piglio la responsabilità di questa affermazione. Pensiamo ai minori a rischio. che, quindi, tutte le strutture del Tribunale dei minorenni, io ho fatto la proposta alla Corte d'Appello di Catanzaro, proprio per fare dei tirocini mirati in questo senso. Pensi un po' ai gruppi appartamento. Pensi anche, fondamentalmente, al problema del sistema penitenziario, che è un problema, diciamo, anche questo, un'emergenza sociale. Ecco, noi vorremmo, in attesa che venga approvata la legge, che ci sia un discorso di tirocini da svolgere sul territorio in questa direzione, che permetta a questi giovani laureanti di acquisire le competenze necessarie per poi avere degli incarico. È un'attenzione da parte di queste strutture che hanno bisogno di personali in dal senso. Ecco, questo mi pare che sia un elemento fondamentale. Certo, è un elemento fondamentale. Dobbiamo anche dire che questo potrebbe sembrare un progetto ambizioso, ma in realtà pone tanti giovani di fronte all'opportunità e alla possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Sì, c'è questo discorso di offrire ai giovani calabresi alcune opportunità che poi, ovviamente, si svilupperanno secondo le situazioni della vita, e che sono complesse, voglio dire. Noi non promettiamo, voglio dire, la sicurezza a nessuno. Però, sia nel campo degli educatori, per i servizi educativi all'invanza, che è normata, voglio dire, ha una legge di riferimento. Sia in quest'altro settore, che non è ancora definito da una legge di riferimento, ma che però, voglio dire, ha un vandaggio. C'è un'urgenza, un'emergenza educativa sul territorio da sviluppare. Io credo che questi aspetti siano fondamentali per il futuro della Calabria. Certo, è ambizioso, non lo metto in dubbio, però noi dobbiamo cercare di dare dei progetti che vadano oltre, per cercare di smuovere la nostra terra. La nostra terra è complessa. La nostra terra, quando ci sono colleghi da altre parti, e anche questi colleghi hanno degli stereotipi nei riguardi, voglio dire, della terra calabrese. Noi dobbiamo veramente costruire, non vorrei essere troppo enfatico, una rivoluzione educativa dal basso. Se noi vogliamo veramente tentare di costruire e di migliorare il nostro territorio, che ha tanti problemi alla criminalità organizzata, alla disoccupazione, alla disorganizzazione. Ecco, noi dobbiamo tentare di costruire una rete educativa dal basso che aiuti le persone che hanno sbandaggio, le persone della primissima infanzia, ad essere veramente orgogliosi di vivere in questo territorio. Del resto, non è che il lavoro si può trovare solo sul nostro territorio. È un problema oggi globale, il lavoro. Io ho un nipote che lavora pure negli Stati Uniti, quindi voglio dire, non è questo il problema. Però tentare di costruire un capitale umano intelligente, nuovo, educativo, che possa dare una spinta dal basso e possa stimolare questi processi latenti della società civile, io credo che ci dobbiamo provare. Dobbiamo anche dire che l'Università della Calabria è sempre un passo avanti di fronte anche alle altre università. Trova sempre dei settori in cui ci si può giocare una buona scommessa, ma soprattutto dove si possono aprire le porte ai tanti giovani che vogliono fare l'università e che possono farla nella nostra regione. Io credo che la forza... Io ho insegnato in sei università nel Mezzogiorno d'Italia, ho insegnato anche negli Stati Uniti, ma in sei università. I momenti storici sono ciclici. Forse oggi è un momento magari non di grande sviluppo dell'università italiana. Però l'Università della Calabria è partita con un progetto forte, il campus residenziale, che doveva dare questa spinta al progetto educativo dello sviluppo. Io credo che noi dobbiamo riprenderlo, ecco, nel mio piccolo, voglio dire, cercherò di svilupparlo all'interno della nuova politica del nostro Dipartimento di Lingue, Scienze e Educazione, che proprio per questa strana combinazione, secondo me, diventa una risorsa. Vorrei, diciamo, suggerire a coloro di quali che si vogliono iscrivere... Infatti, era la domanda che volevo fare. Ci siamo intesi, voglio dire, con lo sguardo. Cioè, devono andare, devono cliccare sul sito dell'Unical, devono cliccare sui servizi didattici e sul sistema nuovo informatico S3, si chiama, e quindi procedere alle varie fasi di registrazione. Il corso di laurea prevede 250 posti, che non sono pochi. La scelta sarà effettuata, come dice il bando, in base alla votazione del diploma di maturità. Quindi non ci sono test selettivi. 250 sono tanti. Ci stiamo organizzando per accogliere al meglio questi studenti e soprattutto per organizzare questi tirocini formativi significativi sul territorio, in modo da poter dare loro quelle competenze professionali di base per costruirsi un futuro. Guardi, mi consente di ultimare queste idee, lei è stata così cortese di darmi questo spazio, volevo ultimare queste idee con un'idea che spesso mi pervade. Noi diciamo, in un mondo così complesso, abbiamo anche il clima oggi, che c'è il discorso chi ci può salvare. Ecco, si usa il termine la bellezza salverà il mondo, forse impropriamente, diciamo ripreso da un grandissimo autore. Ecco, io dico che l'educazione salverà il mondo. Io credo che solo l'educazione possa salvare, salvaguardare e progettare la vita sociale di noi tutti. E secondo me dalla Calabria dobbiamo far partire comunque un messaggio culturale forte, forse ambizioso, però dobbiamo provarci fino in fondo, perché ha senso la nostra testimonianza di video. Io sono dall'84 nell'Oresta Calabria, quindi ormai voglio dire che fra qualche anno andrò in pensione, quindi che vada al di là di me, ma che rimanga come una testimonianza per i giovani che ci saranno e per il futuro di un'intelligenza collettiva che dobbiamo ricostruire educativamente. Aggiungiamo che per abbattere il muro della diffidenza tra i popoli che arrivano, tra gli immigrati e i cittadini e anche italiani, l'educazione è di base, perché forse si evitano tutti quegli stili di vita che portano poi magari a dire quella persona non va bene, insomma a criticare piuttosto che ad essere solidale. Guardi, il problema dell'educazione, della pedagogia interculturale è fondamentale. Tenga presente che la nostra università ha bandito due master ministeriali, due, proprio sulla pedagogia interculturale, per gli insegnanti e per i dirigenti scolastici. Credo dall'andamento delle iscrizioni che saranno cento posti, saranno riempiti entrambi. Io credo che questo discorso dell'educazione interculturale sia fondamentale ed è molto complesso, non è così semplice, non è così semplice. Sicuramente conoscere l'altro ci permette di vivere meglio nell'identità di noi stessi. Se riusciamo a conoscere l'altro con occhi interiori, questo lo dice una filosofa americana, io credo che questo discorso ci possa aiutare, pur registrando che il fenomeno del terrorismo e il fenomeno della cultura islamica è un problema complesso da studiare e da approfondire. Noi abbiamo nel nostro dipartimento un laboratorio proprio che studia questi fenomeni della cultura islamica. Riteniamo che il futuro però dipenda dallo sviluppo dell'inclusione interculturale. Lei a Crotone ha sempre avuto sempre attenzione per Crotone, io parlo del Polo, che lei aveva proposto molti anni fa, c'era Carmine Talarico, allora molti anni fa. Ecco, quel Polo poteva rappresentare per noi uno sviluppo diverso? Guardi, la mia impressione, ma ormai col senno di poisa non è inutile parlare, la mia impressione è che bisogna avere dei rapporti forti sul territorio. Ora, per beh, allora, ma stiamo parlando di tantissimi anni fa, io credo che il Polo di Scienza e la Formazione Primaria, anche a Crotone, poteva rappresentare un'opportunità. Non lo è stato, ovviamente, non dico se ha ragione, se ha tolto, è antipatico a distanza di anni fa e riflessione. Io ho una mente un po' votata al progetto culturale futuro. Io credo che bisogna creare delle sinergie importanti e che io vedo nei tirocini formativi che i corsi di laurea possono dare sul territorio e nell'attenzione che i vari enti locali devono avere nella scuola innanzitutto, nei confronti della scuola e anche nei confronti, voglio dire, di nuove professionalità, vedo questa nuova fase. Ormai proiettiamoci in avanti e, ripeto, per quello che mi rimane, dovrei avere altri otto anni di servizio nell'università, io credo che sia importante lasciare ai giovani questo messaggio forte. Se si fa squadra, se la Calabria fa squadra, se fa squadra con il sistema universitario calabrese nel suo insieme, se fa squadra con gli enti locali, al di là delle inevitabili divisioni politiche, culturali, e, diciamo, imprenditoriali, io credo che forse uno sviluppo si potrà avere. Se si rimane chiuso in modo monaristico ognuno nel nostro mondo, secondo me difficilmente si potrà avere sviluppo. Quindi un invito proprio, non dando per me, voglio dire che, ripeto, posso portare a complimento questo ciclo che ho sviluppato dall'84, ma per i giovani che verranno, il messaggio forte è fare squadra, credere nell'educazione e credere sempre nelle possibilità dello sviluppo, al di là degli aspetti negativi, voglio dire, che la società ora e più in avanti ci prospetterà. Però dobbiamo ricordare che, è grazie a lei che anche un certo numero di docenti si è ritrovato nel mondo della scuola. Ma niente, questo c'è stato un momento di formazione sul territorio per gli insegnanti di sostegno specializzato, prima che venisse, diciamo, assorbito completamente, grazie a me no, cioè grazie alla struttura che allora dirigevo. Ecco, quindi niente di particolare. Io credo che bisogna guardare avanti la vitalità del territorio crotonesi, io dico crotonesi, dovrebbe dire crotoniate, non lo so, però io amo definirlo in questo modo, che ha una sua storia di imprenditorialità, anche di lotta politica, e che io credo che debba integrarsi un po' con i grandi processi della formazione universitaria. Se noi potessimo ragionare in termini di sinergia tra le università e legarci ai territori in modo organico, del resto oggi c'è un'idea che è quella della rendicondazione sociale, cioè l'università non dovrebbe essere solo il luogo della ricerca e della didattica, alcuni parlano di terza missione, voglio dire, come trasferimento tecnologico, io parlerei anche di quarta missione, cioè di formazione permanente in servizio del territorio, e che io credo che questo sia importante, perché non è solo l'università che può dare al territorio, ma è il territorio che sinergicamente può dare all'università. Questo discorso deve essere visto all'interno di una dimensione, diciamo, io la definirei, come la definì Darendorf, glocale, perché è ovvio, noi non possiamo basarci solo sui nostri territori, però dobbiamo difendere i nostri territori avendo di mira queste relazioni internazionali che invece fanno l'importanza, ecco, creano il valore aggiunto. Ci sono tanti giovani nel nostro, anche io, voglio dire, ho fatto diversi viaggi, però oggi la caratteristica del ricercatore è quello di essere un ricercatore globale. Non si può fare ricerca senza collegarsi a livello internazionale, sia perché la società digitale ormai ce lo determina, sia perché è fondamentale questo scambio. E commettere a disposizione una ricerca di alto livello glocale con le applicazioni formative sul territorio e con l'ambito di questa rendicondazione sociale potrebbe essere veramente lo sviluppo. Quello che io sono un ammiratore di Andreatte, mi chiedo scusa, ma ho questo ricordo bellissimo, ero studente, perché vedevo in lui un uomo dei progetti. Vedevo in lui un progetto, poi i tempi sono cambiati, ci sono le università telematiche, il mondo è cambiato, però vedevo il progetto, il campus residenziale come fucina per progettare il futuro della Calabria. E io, questa grande ammirazione per questo grosso personaggio e non un personaggio di secondo piano, mi auguro che si sviluppi. Devo dire, l'università Calabria anche in questo ultimo periodo ha fatto dei passi in avanti. Mi auguro che si sviluppi per il futuro, soprattutto per il bene di noi tutti. Fino a quando c'è tempo per potersi iscrivere e presentare domande a questo corso? E dunque, il termine ultimo per la preiscrizione è il 26 agosto. Corso di Lauli, Scienze dell'Educazione, cliccate sul sito Unical, poi andate ai servizi didattici, poi andate al sistema S3 e provvedete alla registrazione. io e i miei colleghi, anche il mio direttore di dipartimento, Roberto Guerra, se ce la metteremo tutta, voglio dire, per dare la possibilità di accogliere nel migliore dei modi di formare. Poi devo dire, nel mio dipartimento ci sono colleghi di alto valore, che non lo dico per... abbiamo colleghi sia nel campo delle scienze e dell'educazione, sia nel campo delle lingue, e bene non citarli tutti, sarebbe, voglio dire, anche poco corretto, potrei dimenticarne qualcuno. Però ci sono colleghi di grande valore, che sono tutti disposti a dare il loro contributo per rendere questo rapporto col territorio veramente significativo, per dare un senso alla vita di questi giovani. Quindi, entro il 26 agosto, scade il termine, seguita la procedura di cui vi ho parlato, Unical, servizi didattici S3, ci saranno 250 posti, e la scelta sarà valutata non con teste, voglio dire, selettive, ma in base al voto del diploma di laurea. Grazie, professore Spadafora, per essere stato qui nei nostri studi e speriamo che ci sia da parte dei giovani crotonesi una buona partecipazione. Io me lo auguro, comunque, io ho sempre una gratitudine per il territorio crotonese, proprio per questo rapporto che mi ha legato da tanti anni a questa parte della nostra splendida regione. Grazie. Grazie a tutti.